non ti fai per me, il mio paese informai sempre non ti dirai che c'è conflittura ti hai tenato da noi? non te, non te, non mi deixo di fare ma tu non tiás testato tu hai dovuto fare una scala di scantina come te lato in Vita nel 2004 molte cosa te non faccio alcune presunti queste cose fai prima e quando stai andando su salite nel pianeta ti chiedi nel pianeta la macchina prima di San Luvione non andavo a stare a parte durante la luvione la macchina ci vede l'andone della stade del 6 poi ti chiedi prima prima dell'alluvione durante la macchina purtroppo stai andando poi ti chiedi signora c'è la gatta che andano piano a tutta la terra e tu ti chiedi per spiegare chiaro il discorso mi chiedi a mandare tutti 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 noi siamo tutti i mariti che andiamo a pianeta e noi tutti 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 ti capisci, non prendi poi vabbè tutti 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 signora serrai sul gas ma non è, il rosasino va all'accape sabba si intende e spero che nel 2004 poi per il suo fatto che non puoi fare sabba la salubione si sta misturata sabba e sabogna la salubione si sta misturata e adesso il piatto che la salubione è brutta e me la santa deve riportare che ci sta andata aeree quindi non prendi poi c'è il luogo aperto ci sta allacchiamo non faccio come intervento in metà non fai fotografia stessiati per questa zona allacchiamo poi ti chiedi che ti chiedi assieme come ti capisci a metà che ti chiedi assieme che ti chiedi assieme che ti chiedi assieme